Ciao ragazze, allora, video outfit di oggi, sto per uscire a fare delle commissioni in centro e nulla, dal momento che è uscito finalmente il sole, oggi è la prima vera giornata stupenda, bellissima ce l'ho proprio sereno senza neanche mezzanuvolo da tutta la settimana ci ha fatto tutto il ponte del primo maggio bruttissimo e oggi veramente è la prima giornata che fa un pochino più bello vi faccio vedere l'outfit, molto semplice come al solito a parte degli accessori, vabbè, come svalto mi chiederebbe sicuramente che numero è io faccio lo svalto semipermanente, quindi questa volta ho fatto questo fucsia molto molto sparato come anello ho sempre il mio solito di scooter in argento, cioè non è in argento, è metallo di qui ho i bracciali cruciani, con il mio elastico nero di qua ho l'oggi gucci e vari bracciali in argento come collano ho messo questa qua che è di Tiffany e come archini ho queste perle che avevo preso da Primark a Londra dunque, allora l'outfit di oggi ho messo sotto questa maglietta bianca l'ho presa da Raffaele alla crocetta a 5 euro ha le maniche corte e mi piace molto perché non rimane molto accollata come vedete è un po' lo scollo ampio e mi piace perché, vedete, rimane molto lunga altretutto qua ha questa cucitura e mi piace molto come jeans ho messo questi qua soliti della Upstar questa marca qua che vi avevo, insomma, ho già messo in altri video e mi piacciono molto, ve l'ho già detto che mi piacciono molto sopra ho messo questa maglia che ho comprato questo weekend da Modo Milano che è un negozio che c'è qua Torino che faceva tutto il 50% e ho preso questa maglia mi piace molto perché è in cotone elatticizzato cotone un po' pesante ed è di quelle svasate mi piaceva moltissimo il modello e anche il colore e ha le maniche appunto che rimangono così a tre quarti e anche il collo, vedete, che rimane tutto un po' storto e quindi rimane messa così come scarpe ho messo le converse bianche semplicissime, quelle basse non so se da far riuscire a vedere tutto l'outfit come questo, e così come sciarpa metterò questa che è una sciarpa tipo maculata questa l'ho presa su ebay in realtà l'ho presa in due colori l'ho presa così e sul blu però oggi, se non ho visto i colori che ho metterò questa così come borsa oggi metto questa qui che è di mia mamma di Gucci è tutta un po' rovinata perché insomma ha diversi anni però mi piace molto e riprendo anche i colori dell'outfit con sopra magari mi porterò dietro mi porterò dietro una giacchina però non neanche di tutto la metto perché fa veramente tanto tanto caldo e quindi insomma devo ancora decidere che giacca mettere nulla, quindi questo era l'outfit velocissimo di oggi come trucco ho messo semplicemente correttore correttore un pochino di fondotinta della MAC quello fix tipo che sembra minerale blush mi sono fatta la righina sopra marrone e la sotto nera mascara è un lucido labbro della elf semplicissimo e capelli sciolti nulla di che nulla quindi questo outfit spero che vi sia piaciuto un bacione ciao